Un programma nazionale a sostegno del Made in Italy che punta alla qualità della produzione, allo sviluppo tecnologico e alla sostenibilità. Il programma è stato lanciato durante la visita di una delegazione internazionale di circa 100 persone composta da giornalisti e imprenditori presso la nuova sede della stazione sperimentale all'interno del comprensorio Olivetti di Pozzuoli, con la quale si è dato inizio alla sesta edizione del Congresso Mondiale delle Calzature, iniziativa volta a favorire la collaborazione tra le imprese e gli stakeholder internazionali che si svolgerà a Napoli fino al 5 aprile con un focus sulla digitalizzazione per la sostenibilità del settore calzatoriero. Nella nuova struttura ipertecnologica il direttore Edoardo Imperiale ha illustrato le caratteristiche del centro. Questo centro sarà un centro dedicato a tutto quello che sarà lo sviluppo del prodotto, lo sviluppo e il miglioramento dei processi produttivi con una grandissima attenzione alla sostenibilità. Quindi possiamo dire che questo è un laboratorio di eccellenza nazionale su tutti i processi di sostenibilità del settore moda e in particolare con focus sulla pelle. Un regio decreto ricorda che questa è la più antica stazione sperimentale d'Italia datata a 1885, oggi organismo di ricerca nazionale delle Camere di Commercio di Napoli, Pisa e Vicenza. Il presidente dell'ente partenopeo Ciro Fiola ha annunciato investimenti e sostegno. Pasquale Della Pia, delegato Asso Calzatorifici per la Campania, ha evidenziato la collaborazione strategica con la stazione sperimentale. Con questa stazione sperimentale noi come Asso Calzatorifici stiamo per fare un accordo quadro per far sì che abbiamo un'eccellenza anche al sud dell'Italia, al centro sud dell'Italia, come abbiamo come Asso Calzatorifici a Vigevano e il CIMAC, che è un altro centro d'eccellenza. Questa collaborazione fra queste due eccellenze porterebbero un po' la nostra associazione nazionale ad avere due punti di diamante, una dislocata al nord d'Italia e una più al centro sud d'Italia. Erano presenti al lancio del programma nazionale anche Fulvia Bacchi, direttore generale di UNIC Concerie Italiane, Mario De Maio, presidente di DMD Solo Fress e Pia, Carlo Casillo, presidente sezione mode e design dell'Unione Industriale di Napoli e Rosa Lanzetta, direttore del Dipartimento di Scienze e Chimiche dell'Università Federico II di Napoli. Grazie. 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 Grazie.